Per la community della Mille Miglia siamo alla partenza, poteva certo mancare un commento del due volte vincitore di questa manifestazione, il brescianissimo Bruno Ferrari, quest'anno che si presenta un colume da problemi fisici come invece l'anno scorso aveva dopo l'incidente che ha avuto con la sua Bugatti, quindi quest'anno è molto pericoloso dal punto di vista sportivo ed è un personaggio che alla Mille Miglia ci sta sempre bene. Bruno! Non infolchiamo l'incidente dell'anno scorso, non sono sugli altri che sono andati molto meglio per cui non si devono accappare scusi in questi casi. Quest'anno abbiamo fatto qualche gare, qualche allenamento in più, quindi dovremmo essere più performanti, un po' più progettivo. Me l'hanno detto in tanti a questo, sono quest'anno l'anno giusto, quindi vedremo. Con suo figlio, bravissimi, sono alla guida di una meravigliosa Bugatti, coefficiente 1,70, sono bravi, quindi attenzione alla Bugatti Blu, che ha già vinto due anni fa, molto meritatamente. Un bocca al lupo! Grazie Giordano, sei sempre sentito!